Io volevo dare subito il via a questo punto al resto del dibattito, citando un altro ex studente della Bocconi, oggi vanno di moda, però questo ex studente della Bocconi, tal Giorgio Lunghini, qualcuno di voi lo conoscerà, gli è stato chiesto qualche anno fa ma qual è il programma elettorale che tu ti sentiresti di votare? E Giorgio Lunghini ha dato una bellissima risposta perché si è messo a citare gli articoli della Costituzione, questo era il suo programma elettorale, quello in particolare naturalmente sull'economia. Allora Deborah Migliucci ha studiato a fondo non solo la Costituzione perché lo fa di mestiere ma anche questo libro, quello di cui stiamo parlando stasera e la cosa che mi ha colpito, di qualche anticipazione che mi hai dato è che ha trovato delle connessioni, un filo comune tra tutti gli interventi. Prego. Buonasera, grazie a tutti. Io prima volevo ringraziare la Fondazione Franceschi per avermi dato questa opportunità di partecipare a questo importante appuntamento. Non sarà facile per me parlare al tavolo con personalità che già hanno ampiamente dimostrato il proprio valore sia nella vita istituzionale che sociale. Il mio contributo questa sera non può che essere un contributo di genere, essendo l'unica donna al tavolo, e di generazione, essendo ancora al di sotto di quei 35 anni che ancora ci rende giovani. E quindi è in quest'ottica che tenterò di raccontarvi cosa vuol dire per me l'importanza della Costituzione nel vivere civile e sociale e lo farò a partire proprio da questo libro. La premessa fondamentale è già stata ampiamente detta. La Costituzione possiamo definire il libretto di istruzione della nostra convivenza civile. Questo vuol dire che se viene disattesa la nostra convivenza diventa incivile. Quindi blocca i talenti, non concedere pari opportunità, non mette i cittadini su un piano di uguaglianza come prescrive il nostro articolo 3 e quindi difende i privilegi e penalizza quei soggetti che storicamente sono outsider, che sono le donne, i giovani e aggiungerei anche gli immigrati, quei cittadini italiani di seconda generazione che venivano citati prima da quella giovane laureata. Ci tengo però subito a puntualizzare che quando parlo di privilegi intendo qualcosa di ben preciso. Intendo dire rendite di posizioni, privilegi di nascita, ereditarietà delle professioni, accumulo delle cariche. Non intendo i diritti, non credo che la maternità o la paternità siano dei privilegi ma sono dei diritti. Non credo che gli ammortizzatori sociali siano dei privilegi della generazione che ci ha preceduto ma credo che siano dei diritti che vadano a stesi anche ai giovani indipendentemente dal rapporto di lavoro. Così come non credo che le pensioni siano un privilegio, credo che siano un diritto. Ma in questo senso ho trovato come anticipava Danilo prima alcune parole usate nel libro che sono particolarmente insignificanti, importanti. Mi pare che delineano una sorta di filo conduttore, almeno tra gli articoli che gli autori del libro hanno liberamente scelto. Queste parole sono dignità, responsabilità e merito. Il merito si contrappone alla corruzione, alla raccomandazione, alla furbizia, agli interessi personali. Ne parla molto bene Ambrosoli nel libro. La responsabilità chiama in causa il dovere di chi rappresenta alle istituzioni o di chi detiene del potere, sia nel pubblico che nel privato, di distinguere tra il giusto e l'ingiusto, tra il morale e l'immorale, tra l'onorevole e l'isdicevole. Così li definisce molto bene Nando dalla Chiesa. La dignità. Di dignità ne parlano sia Cristina Franceschi che Benedetta Tubaggi. La dignità si raggiunge attraverso il diritto al lavoro, attraverso la realizzazione della propria esistenza, concorrendo al miglioramento della società. In due parole, lo dice bene Benedetta Tubaggi parlando di suo padre, dignità significa trovare il proprio posto nel mondo. Ecco, in che modo secondo me queste parole sono legate tra loro e in che modo hanno a che fare con le questioni di genere e generazionali? Sono legate tra loro perché nel dare loro importanza o disattenzione si scelgono due tipologie antitetiche di società e hanno a che fare con donne e con giovani perché nel primo caso, nel caso in cui diamo importanza a queste parole, abbiamo una società libera portata al bene comune, al progresso e all'inclusione. In caso contrario invece no. Per cui, per fare degli esempi concreti, se chi detiene il potere in ogni campo, dal datore di lavoro all'insegnante, al capo ufficio, al ministro, non si assume la responsabilità di essere conseguente ai principi costituzionali e quindi di perseguire il bene della collettività ma sceglie gli interessi personali, corporativi, accoglie le raccomandazioni, allora non premia il merito, difende le rendite di posizione, non garantisce l'accesso al lavoro, non garantisce le pari opportunità, spreca talenti e risorse e quindi di conseguenza impiderà soggetti che storicamente partono non privilegiati, quindi le donne, i giovani, gli immigrati, gli impedirà di realizzare la propria esistenza, di trovare il proprio posto nel mondo e di contribuire alla crescita del paese. In pratica chi non si assume questa responsabilità si renderà colpevole del declino della società che invece aveva il compito di guidare. E io credo che queste siano cose veramente molto antiche. Di certo non sfuggivano a un uomo intelligente come Walter Tobagi quando si chiedeva come faceva lui che proveniva da una famiglia povera a trovare il suo posto nel mondo, a contribuire al benessere della società partendo da una situazione di svantaggio in un mondo spesso ingiusto. Ma guardate che queste cose sono ancora più vecchie, le si sapeva già nel Settecento. Ci sono due articoli bellissimi della prima Costituzione della Repubblica Cisalpina. Siamo nel 1797, che vorrei leggervi. L'articolo 6 dice che chi trasgredisce apertamente le leggi si dichiara in stato di guerra con la società, ma poi all'articolo successivo prosegue. Colui che senza violare apertamente le leggi, le elude con l'astuzia e corra a giri, offende gli interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolezza e della loro stima. E questo, diciamo, quella dice lunga su il compito di responsabilità che tutti i cittadini hanno. E poi c'è un'altra testimonianza che io vorrei leggere, che è un pochino più lunga, ma che credo valga la pena ricordare, perché si tratta di parole pronunciate proprio in Assemblea Costituente e riguardano invece i talenti femminili e il valore delle cittadine. Noi affermiamo oggi che, pur riconoscendo come grande conquista la dichiarazione costituzionale, questa non ci basta. Le donne italiane desiderano qualche cosa di più, qualche cosa di più esplicito e concreto, che le aiuti a muovere i primi passi verso la parità di fatto in ogni sfera economica e sociale della vita nazionale. Non dimentichiamo che secoli e secoli di arretratezza, di oscurantismo, di superstizione, di tradizione reazionaria, pesano sulle spalle delle lavoratrici italiane. Se la Repubblica vuole che più agevolmente e prestamente queste donne collaborino, nella pienezza delle loro facoltà e nel completo sviluppo delle proprie possibilità, alla costruzione di una società nuova e più giusta, è suo compito far sì che tutti gli ostacoli siano rimossi dal loro cammino e che esse trovino al massimo facilitata ed aperta almeno la solenne via del diritto, perché molto ancora avranno da lottare per rimuovere e superare gli ostacoli creati dal costume, dalla tradizione, dalla mentalità corrente del nostro Paese. Questo noi chiediamo che nessuna ambiguità sussista in nessun articolo e in nessuna parola della Carta Costituzionale, che sia facile appiglio a chi volesse ancora impedire e frenare alle donne questo cammino liberatore. È purtroppo ancora radicata nella mentalità corrente una sottovalutazione della donna, fatta un po' di disprezzo e un po' di compatimento, che ha ostacolato fin qui grandemente o addirittura vietato l'apporto pieno delle energie e delle capacità femminili in numerosi campi della vita nazionale. Questa era Teresa Mattei il 18 marzo del 1947. Grazie.